Quanto stai in vacanza? Circa un mese. Chi conosci in quella scuola? Solo Luca. Quanta gente è venuta alla tua festa? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo cibo preferito? La pizza. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai finito la scuola? A 18 anni. Quanti di voi vanno al cinema domani? Quando ti svegli la mattina? Alle sei e mezza. Quanto costa un caffè? Due euro e cinquanta. Quanti animali hai? Un cane e due gatti. Dove abiti? A Venezia? No, abito a Milano. Come trovi i nuovi vicini? Sono simpatici. Quali libri stai leggendo ultimamente? Mi piace guidare la macchina. Mi piacciono le macchine. A loro piacciono i caffè. A voi piacciono i cani? Ti piace molto viaggiare? A lei piace cenare in casa? Le piacciono molto le camice. So che vi piace la carne. A lui piace mangiare fuori. Gli piacciono i gelati. A volte ci piace passeggiare. A me piace tanto nuotare. Mi piace la cucina messicana. Ci piace andare allo stadio. La mattina bevo molta acqua. Gli italiani sono molto eleganti. Gli olandesi sono molto allegri. Vedo molte donne vestite bene. Conosco molte lingue straniere. Molti autobus aspettano in fila. Le regioni italiane sono molte. Questi sono molto interessanti. Luca e Claudia sono molto belli. I nipoti stanno molto bene. Sto molto bene e sono felice. Molti amici sono arrivati adesso. Cerco di imparare molte lingue. Molti studenti sono in ritardo. Io voglio andare al cinema. Tu che cosa vuoi fare? Tu che cosa vuoi fare? Tu che cosa vuoi fare? Noi dobbiamo fare la spesa. Voi potete preparare la cena. Claudio deve alzarsi presto. Lei deve essere a casa alle otto. Le mamme vogliono uscire. Lui non può uscire stasera. Io voglio studiare la lezione. Tu sai fare gli esercizi. Noi vogliamo andare al mare. Voi volete venire con noi? Noi. Noi. Noi dobbiamo essere puntuali. Noi dobbiamo essere puntuali. Gli studenti vogliono le vacanze. Tu puoi sempre mangiare. Il cameriere vuole la mancia. Non voglio stare dentro casa. L'autobus deve parcheggiare. A lei. Lisa le spiega le regole del gioco. A te. Luca ti ha comprato il nuovo CD. A lei. Puoi prestarle le tue matite? A noi. La mamma ci racconta una storia. Claudia vi offre un caffè al bar. A loro. La vicina ha dato loro dei biscotti. Esso. Bisogna finirlo prima di domani. A lui. Dobbiamo dargli una risposta. A noi. Abbiamo due film da guardarci. Lei. Non la vedo da moltissimo tempo. A me. Mi chiedo dove andare in estate. Te. Ti avviso domani appena possibile. Non la vedo da moltissimo tempo. Ci piace andare in discoteca il sabato. Ci piacciono le vacanze con gli amici. Mi piace l'Italia perché è un bel paese. Non mi piacciono i concerti in piazza. Le piace uscire quando non ha scuola. A loro piace andare spesso al cinema. Gli piace molto giocare a calcio. A loro piacciono i dolcetti al limone. A loro piacciono i dolcetti al limone. ci piace molto andare in montagna. La musica italiana mi piace molto. Questa casa non mi piace per niente. A casa tua si mangia bene. Le monete sono nella cassa. Luca indossa un cappello. Ho tolto la neve con la pala. domani giochiamo a palla. Fa caldo e ho molta sete. Ci vediamo alle sette in punto. La nonna ha fatto il tonno. Parla con un tono più basso. Hai già fatto la spesa oggi? Devi portare fuori il cane. Dopo andiamo dal nonno. Sono già al nonno episodio. Ho appena steso i panni. Accordo. Disaccordo. Lecito. Illecito. Conosciuto. Sconosciuto. Continuo. Discontinuo. Fortunato. Sfortunato. Logico, illogico Onesto, disonesto Educare, diseducare Provveduto, sprovveduto Amore, disamore Attento, disattento Consigliare, sconsigliare Giungere, disgiungere Cortese Scortese Il tuo gatto è in campagna Ti ho dato la mia macchina Ne prendo una delle tue Ha cenato con i suoi colleghi I tuoi consigli sono buoni Il nostro medico è giovane Questa è la vostra occasione Le tue camice sono eleganti I tuoi cani sono in giardino La loro casa è in centro città Il tuo lavoro è interessante Il mio amico è simpatico Ho invitato le loro amiche Ti ho ridato tutti i tuoi libri Prestami la tua calcolatrice Ho perso le mie matite I nostri amici sono in ferie La mia città è molto grande Hai mangiato il tuo panino Mi piacciono i tuoi fiori I vostri gatti sono veloci Che libro leggi? Cosa leggi? Che cosa fai? Chi è quella persona? Chi viene alla festa? Di chi è questa rivista? A chi hai dato la rivista? Maria, come stai? Come si chiama il tuo amico? Dove vivono i tuoi amici? Dove vai a scuola? Perché dici questo? Perché non vai alla festa? Quando vai in Italia? Quanta carne mangi? Grazie.